buongiorno siamo in provincia di pavia dove abbiamo realizzato un intervento con le resine idroreattive questo video ci deve aiutare a capire meglio qual è il funzionamento di queste resine ma soprattutto da dove partono i problemi di infiltrazioni di acqua in questo caso legate a un grosso complesso l'acqua in edilizia è il problema più importante spesso sappiamo dove esce l'acqua ma non riusciamo a capire qual è il punto da dove c'è origine e questo crea una grossa complessità per tutti coloro che si occupano di edilizia provate a immaginare se questo può avvenire su una copertura quanto diventa più importante su un piazzale come ad esempio di questo tipo che è un piazzale misto con una pavimentazione e delle zone a giardino dove ci sono delle vasche è evidente che ogni problema di infiltrazione deriva sempre da un problema di cattiva tenuta delle vecchie guaine che sono state poste difficile riuscire a capire esattamente qual è l'intervento di ripristino tradizionale il lavoro normale che veniva fatto era sempre quello di andare a cercare l'origine e la causa ma comprendete bene che in questa casistica diventa estremamente complesso lo stabile l'edificio per cercare di risolvere aveva creato anche questa leggera canalizzazione che vedete sulla destra per cercare di alleggerire ma in una struttura come questa con della presenza di giardini con delle vasche è evidente che la problematica delle guaine è duplice sia per quanto riguarda la zona giardino che qui quindi comprendete che l'intervento tradizionale è uno dei più complessi qualunque impresa si possa avvicendare nell'intervento tradizionale avrebbe una difficoltà oggettiva andare a risalire a capire qual è il punto d'origine e potrebbe fare solo dei sondaggi delle prove ma sono tutte prove che non potrebbero dare una giusta garanzia dobbiamo sapere che anche in edilizia esistono delle prove di verifiche tra le termografie o le prove terp che sono quelle che mettono i gas straccianti nel tentativo di andare a individuare qual è lo strappo della guaina ma anche un'attività di questo tipo che comunque risulta onerosa non potrebbe garantire col successo l'intervento che verrà realizzato chiaro che gli interventi tradizionali tendono a essere sempre molto invasivi o si decide di rifare completamente l'impermeabilizzazione di queste due zone con dei costi abbastanza importanti e con una invasività non da poco oppure esiste la progettualità delle resine idroreattive che ha una grande risposta venite con me che vi faccio vedere cosa abbiamo fatto e siamo nella parte sottostante qui abbiamo già realizzato un intervento molto complesso e molto vasto di iniezioni di resine idroreattive idroespansive gli operatori della sicurcon hanno effettuato l'intervento di iniezione della resina attraverso l'esecuzione di questi fori secondo una determinata metodica stabilita in 12 anni di lavoro e hanno effettuato l'iniezione della resina idroreattiva idroespansiva questa resina ha la capacità di aumentare il proprio volume da 10 a 20 volte utilizzando due effetti innanzitutto la saturazione totale della lastra predalla e in secondo luogo una maggiore spinta e pressione per cercare di mandare la nostra resina fin dove si è originato il punto di infiltrazione ciò che è importante per il cliente è che avrà la garanzia di 5 anni che se dovesse tornare una piccola infiltrazione l'azienda interverrà a proprie spese nel fare un intervento correttivo che è un intervento che possiamo dire è un completamento di un'opera che il cliente ha condiviso con noi una peculiarità di questo lavoro qui su un intervento così grosso e così esteso può anche capitare che a causa delle infiltrazioni di acqua ricorrenti la parte di rivestimento sottostante che non è una parte strutturale si sia ormai particolarmente danneggiata e non per via della resina ma delle forti pressioni con cui lavoriamo in questa zona vediamo una piccola zona di lastra che si è ulteriormente lesionata ed aperta sicurconde in questo caso garantisce anche il ripristino di queste porzioni che non sono strutturali e quindi fungono solo per la porzione estetica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti